Per questo motivo volevamo farci rappresentare da una valle che ora è spopolata e che è dimenticata, per cercare di ridare vita a questo territorio, alla cultura di questo territorio. Il canto che vi proponiamo è il tipico canto del repertorio delle quattro province, soprattutto di quella di Piacenza, quindi abbiamo le tre voci principali, il pedale dei bassi, la prima voce e la seconda voce. Quindi noi solitamente cantiamo a cappella senza l'utilizzo di alcun strumento. Piacenza 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 Piacenza